Sicuramente molti di voi ricordano Tim Peake quando è stato beccato durante una visita dell'ex presidente George Bush alla NASA. Durante quella visita si vedeva l'astro non auta che faceva ruotare una pallina da tennis in circolo davanti ad uno schermo cromatico blu. Da indice alfabetico che vedete in basso cercate il video schermi verdi o blu frode NASA. Ovviamente in seguito hanno dovuto inserire lo stesso schermo anche sulle riprese all'interno della pseudo ISS per far credere che è normale portare nello spazio uno schermo che copre e chiude la parete in fondo o no? Ma andiamo ad analizzare un ulteriore giochetto del nostro Tim Peake che apparentemente si trovava sulla ISS. Lui fa sempre questi giochetti come adesso che fa girare una pallina all'interno di una pista circolare che tiene in mano. Osservate queste tre aree. L'anello che sta tenendo nella sua mano è di fronte o dietro alla griglia? Osservate quest'area in alto. L'anello che tiene in mano è davanti o dietro alla griglia? Per chi ancora digiuno delle miriadi di cose che si possono realizzare con gli schermi verdi invito a prendere visione del Festival di Immagini in CGI sempre attraverso indice alfabetico scorrendo fino alla voce Schermi Verdi Nasa, grande festival di immagini in CGI. La griglia ovviamente non è né davanti né dietro l'anello circolare, ma su un altro livello del computer. Perché? Perché ci hanno sempre imbrogliato come ci stanno imbrogliando adesso, su tutto. Illudono le persone facendo credere che chi sta al potere è buono, ma è esattamente il contrario e tengono le persone soggiocate con la paura. Ma vi posso garantire che una volta che capite la realtà del nostro vero regno piano, queste paure indotte spariscono, perché si capisce che si tratta di un vero e proprio inganno. C'è una folta playlist di tutte le cazzate che hanno fatto gli astrononauti negli ultimi decenni, dal boccaporto flessibile ai lanci senza tuta spaziale, agli astrononauti trasparenti. Per i più attenti e le più attente potete scoprire ancora oggi, semplicemente analizzando le fantasmagoriche messe in scena odierne, di come il tutto è uno spettacolo malfatto. Arrivo sulle ISS. Piccoli spettacolini all'arrivo e poi tutti nella posizione fissa e sempre verticale, a parte l'attore in fondo a sinistra, che si fissa in posizione inclinata, è il tecnico supervisore di controllo, ma la testa non è allineata col corpo, ma verso l'alto. Come mai? Vi ricordo il video su indice alfabetico ISS, teste non allineate col corpo, sono a terra, non nello spazio. Ma osserviamo meglio. Lo vedete il peso dell'astronauta che grava sull'attore che lo accoglie? Rivediamolo. E attenzione a tutti questi ulteriori abbracci che non c'entrano nulla, ma servono per distrarre eventuali inghippi che possono presentarsi durante l'entrata della nostra astrononauta Samantha. E poi abbracci sempre per distrarre, perché è facile che le imbraccature si ingarbuglino. Infatti eccolo che sta per scendere, ma qualcosa è rimasto incastrato e deve tornare indietro. Poi si sistema il tutto e finalmente può entrare. E se siete attenti, attente, anche qui si vede il peso del suo corpo che carica nel momento che poggia i piedi. Ma voi vi siete distratti nel vedere l'attore in primo piano che alza il braccio? Per cosa? Non si sa. Rivediamo ancora avanti e indietro come si fa quando si vuole analizzare cosa succede veramente. Cerimonia di benvenuto a bordo delle ISS. Gli attori sotto saltellano, ma i tre sopra sono immobili. È ovvio che inseriscono movimenti che si fa nel teatro, tipo scambi di microfono o inutili abbracci, ma servono per distrarre, mentre i tre sopra rimangono sempre immobili rispetto a quelli sotto dove qualcuno esagera nei suoi saltelli. E arrivati in fondo, finalmente la recita è finita e si sganciano. Ciao, Dino. Ciao, Dino.